Cari amici bentornati a Radio Puginion Air, entriamo nel vivo della Kermesse Sanremese, stiamo seguendo in diretta la quarta puntata del Festival di Sanremo appena iniziata, intanto possiamo darvi delle anticipazioni ed ora in occasione della serata delle cover di Sanremo, la talentuosa cantante Clara ha scelto di incantare il pubblico del teatro Ariston con una delle canzoni più iconiche della storia dei film d'animazione Disney, Il Cerchio della Vita, scritta da Elton John per Il Re Leone. Ma non sarà sola su questo palco perché ad accompagnarla ci sono due artisti, Ivana Spagna, la grandissima Ivana Spagna e il coro di Voci Bianche del Teatro Reggio di Torino. Dunque tantissimi gli ospiti stasera, le collaborazioni, vedremo un palco davvero animarsi di grandi nomi della musica italiana. Ivana Spagna, conosciuta semplicemente come Spagna, ha iniziato la sua carriera nel 1986 con due brani dance che hanno conquistato il cuore del pubblico internazionale. Da allora ha continuato a lasciare il segno nella musica italiana, vincendo anche il Festival Bar nel 1987 con Dance 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 e conquistando la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 con Gente Come Noi. Con oltre 11 milioni di dischi venduti, Ivana Spagna è una delle artiste italiane di maggior successo sia in patria che all'estero, ricevendo nel 2006 il disco d'oro alla carriera dalla Fimi. Accanto a lei il coro di Voci Bianche del Teatro Reggio di Torino, nato dalla collaborazione tra il Teatro Reggio e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino alla fine del 1997. Diretto sin dalla fondazione dal maestro Claudio Marino Moretti e successivamente dal maestro Claudio Fenoglio, il coro ha portato la sua magia sulle scene internazionali, esibendosi al World Summit di Ginevra e presso la Basilica di Assisi, oltre che nelle produzioni liriche del Teatro Reggio di Torino. Questo coro ha dimostrato la sua versatilità e talento in numerosi spettacoli dunque. Oggi questi due mondi della musica si uniscono sul palco di Sanremo per regalarci un'interpretazione indimenticabile del Cerchio della Vita, una canzone che continua ad emozionare generazioni di spettatori in tutto il mondo. Per cui siamo curiosi di ascoltare tra poco Clara insieme a Divana Spagna e a questo magnifico coro. Fatemi sapere poi cosa ne pensate nei commenti dei nostri video puntata qui sul mio canale YouTube Marco Pugina, al quale vi invito ad iscrivervi. Noi ci ascoltiamo più tardi per un'altra puntata, non appena ci saranno altre novità, seguiremo in diretta il Festival di Sanremo e ve lo racconteremo in tempo reale alla prossima puntata di Radio Puginioner.